Oggi facciamo un 3x3 di questa quantità difficile che non c'erano un cazzo da fa Forza in clave, lo vuoi verci L'obiettivo sarà quello di fare qualcosa Nice Bene, l'ho già perso Minchia, sono al confine con i nemici In clave ho raggiunto le teclasse Ah, non si curano, ma se faccio più di tanti Wow Mi stanno attaccando Oh my god Oh no, non ho benedetta cos'è mia Minchia, sono al te, campo tutti e tre No Non hai capito Cosa sta arrivando Oddio Oh my god Oh, ma te fai sto Oh, ma le tett'o Oh, ma te fai sto 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 Un ponte Lei che è svolito Lei che è svolito Sai qualcosa verde, forza Ma in Italia si perché è aggressivo, quindi dovrebbe aiutarti Ma dove vai? Ma dove vai? Ma dove vai? Ma dove vai? Ma dove vai verde? Ma, sei impazzito E' pronto. Vullo me. Ma? Pro sta a gma. Orto. Non lo per entrava ora. Cosa non lo per entrava? Ma sto dèmpe le cazzo. E' pronto. Metalle. Sì, ma non c'è neanche lui. Non è che mi servono le risorse, voglio che la smettano di invadere i miei territori. Questi figli di planarie... Allora, qua ho cinque abitanti e li sto mandando a raccogliere oro per le iso. Che bastardi, hanno il controllo del mare. Guardalo lui, guardalo! Guardalo! Oh! Benissimo, arrivano! Io ho gli occlitti! Sì! E poi ti sono buoni contro una cavalleria. No! Infatti ti do un po' di risosso. Oh! Oh! Sì! Oh! Ah! Ah! creazione meraviglia creazione meraviglia ma io avevo un abitante una volta da attacchi fino a fa ah bu? quando si c'è arrivato? non c'è arrivato non c'è arrivato come c'è successo? ah gli opliti sono più forti voi volete fottare a me ma ce ne hanno capito questi e adesso vlo me vlo me ti serve un'ante risorse? ma gli stai ero eeeh ho fatto prima io che il botto prima io che il botto prima io che il botto ma per favore mandatevene sta arrivando con catafrotti campione va bene io ce li ho puliti i medi dovrei resistere che cosa arrivano gli opliti si Sì, sì. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 mio mio prostaglio di tutt'anni io ho avuto noi abbiamo un po di ritardo rispetto ai bot e ho così dove prima una mia figlia io non voglio dire niente però mandante rinforzo hanno uno spazio che rimando e cazzo questo che vedi da te è il mio esercito i paspisti e la madonna se vuoi attacco un attimo a questo qua allora abbiamo 5 minuti non dico che non farà niente adesso oh un attimo di pace uguale Sì, è vero, è vero, è vero. ooo la lagge Lag Ah, l'avanzato! Minchia! Vi devo dire, è tutto io! Sì. Come zero abitanti nel loro? No! La mia colonia! Ma quando? Cazzo, il mio leone! Sì, vabbè, ma il frame rate è tipo 10 di 10, cazzo. Ora capisco perché i trigger sono parlando. Singolo giocatore. Prostagma, full on me! Prostagma! Va, distruggetemi queste torri, maledette. Dei palazzi. C'ho due catapulte, adesso arrivano. Ma che cazzo scegli? Ma che cazzo scegli? Sì, attacchiamo la meraviglia proprio. Pronti a ste catapulte qua. Sfondiamo sta meraviglia. Dei che? Toro! Tandiamo tu qua, va il fanculo. Ah, ma lì c'è la meraviglia. La punta. Dei che? Dì che? Dì? Dì, dì voli? Come orò, il moco. No, ma lì cazzo scegli? Vaa, è proprio l'aviglia. Prostagma. Oltagma. Patr, dove cazzo? Perchè, dove cazzo? Dei che? Scegli? Dì, che cazzo scegli? I pezzi? Dì, dì, dì? Dì, dì, dì. Dì, dì, dì? Dì, dì, dì? Dì, 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 dì? come hanno osato costruire senza il nostro permesso ma soprattutto perché costruirlo? tanto bello combattere eh finita attacchiamo si vabbè addio a domani vi spiego come ti vinci da 38 secondi la distruggiamo ma volendo puoi distruggere la tua aspettiamo il verde che vinca così abbiamo 4 minuti in più rostagma signori miei è un grande piacere e vediamo un po' i risultati 3 contro 3 in difficile dominati non era mai successo perdevo fisco diciamo che dal look down era più successo prima mi ricordo che c'era un periodo che ci stavamo giocando un po' di più ed ero diventato bravino anche in difficile fulvia ma poi avevo perso tutto invece adesso vabbè tu primo in tutto ma non in tutto eh no perché qualcuno si è più bravo di me in economia eh quando uno è più bravo è più bravo c'è poco da fare però quindi economia tutto errore commercio favore sì vabbè ma che cazzo sei cioè allora devi giocare in epico unità distrutte 2,79 ho avuto i miei momenti costruzioni pezzi 0 vabbè ma perché a me non mi hanno attaccato però proteggio sviluppo il 75 non trutto di nessuno l'inche conquistata eh sì sì in titano se la devi giocare devi fare un ultimo video su youtube in titano non vengo già fatto e tu sì sì vabbè ragazzi ora ci vediamo questa è stata una bella partita e noi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti